Cosa ci fa un uomo, un prete sospeso per aria? Anche solo per un attimo sospeso nel vuoto con la paura che nessuno ti prende e ti lasciano cadere facendoti male e per un attimo pensare come poterti salvare da solo. Stare lì sospeso nel vuoto e accettare il rischio della fiducia scommettendo sulla libera responsabilità di quelle stesse persone che ti hanno spinto nel breve volo. Credere di cadere al sicuro, di poter contare sulle braccia di una comunità, sul loro sostegno, forte e affettuoso. Un prete non è mai davvero solo. L'esperienza della fiducia proviene dalla comunione profonda che c'è stata e apre ad un cammino di gioia, di libertà interiore. Non abbiate paura degli uomini, dice Gesù nel Vangelo di oggi. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Nei momenti della vita in cui potremo essere sospesi nel vuoto o nella tempesta di un male rumoroso si sente una voce leggera nel cuore. È quella di Cristo, ribadita come un loop, come un ritornello insistente, a garanzia e pegno di una salvezza certa e di una liberazione che dona pace. Non abbiate paura. Non aver paura Don Nicola, Don Riccardo, Marco, Francesca, Paolo, Sofia. Non aver paura tu che ascolti, cercatore di Dio. Il Signore Gesù è con te, la sua chiesa cammina con te. E se quel vuoto durasse anche un interminabile lungo istante, cadrai sempre al sicuro nelle braccia del Padre tuo che non è solo nei cieli. Buona domenica.